E la musica live? Allora ti aspettiamo al College Bar Trattoria, Griglieria, Pizzeria, venerdì 15 giugno a Romano Canavese, a pericena 10 euro e uno strepitoso concerto live, insieme agli Acustica, con la splendida voce di Federica Riva, la musica che avete sempre ascoltato, come non l'avete mai ascoltata. Acustica Live, venerdì 15 giugno al College Bar, via Marconi 8, Romano Canavese, a pochi chilometri da Torino. Info e prenotazioni College Bar 0125 71 22 10.